Mi trovo qui con Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e direttore della serie L'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali nonché autore di questo libro uscito da poco che è Titanic, naufragio dell'ordine liberale intanto grazie di partecipare a questo podcast Grazie a voi Si sente spesso parlare di geopolitica, come spiegherebbe questa materia, questo campo di studi a qualcuno che si avvicina? Ma diciamo che la geopolitica è in realtà una parte della disciplina delle relazioni internazionali ed è sicuramente la parte più immediatamente intuitiva perché parte appunto dalla geografia e le conoscenze geografiche sono mediamente più diffuse, anche se mai abbastanza, delle conoscenze politologiche e la geopolitica poi nel particolare utilizza molto la storia e la storia anche questa nuovamente, pur non essendo così conosciuta in ultima analisi e più conosciuta, delle scienze sociali più recenti come la scienza politica internazionalistica Noi cerchiamo di spiegare il ruolo della politica e delle decisioni squisitamente politiche quindi che posto occupa il potere sostanzialmente nella definizione del mondo in cui viviamo ovviamente facendo attenzione al fatto che oggi il potere per essere proprio definito e per essere riempito del significato sicuramente ha una forte interrelazione con la dimensione economica quindi politica e economia oggi spiegano molto del mondo anche se non tutto pensi solo all'influenza delle religioni negli ultimi decenni nella loro rilevanza politica ma spiegano oggi molto di più di quanto spiegassero in passato Da dove nasce la sua passione? La mia passione nasce, paradossalmente nasce proprio dalla passione per la storia e la geografia da ragazzo, diciamo così erano le letture da comodino per me ho sempre giudicato un troppo estremamente rilassante leggere di storia e la geografia mi è sempre piaciuta perché c'era questa dimensione spaziale la collocazione nello spazio delle cose, in questo caso delle località fin da ragazzina, da bambino poi dopo ho avuto la fortuna di incontrare Gianfranco Miglio sulla mia strada quando ero studente qui in Cattolica, tanti anni fa ormai che è stato il mio maestro e Miglio aveva un fortissimo interesse per la dimensione internazionale che coincideva con il mio poi le pensi che insomma io da giovane politologo ho iniziato a lavorare nell'ottuno del 89 per cui da un lato c'era il mondo che stava cambiando sotto i nostri occhi per cui era una molla ancora più forte e dall'altra la politica italiana era già nella fase di disastri che poi sarebbe esplosa con Tangentopoli e poi tutto quello che conosciamo dopo per cui diciamo che a qualcuno che fosse interessato a studiare le forme del potere a studiare la politica non tanto nel suo dover essere ma più vicino a un'idea pura di potere, di politica era sicuramente più pagante studiare le questioni internazionali che non studiare Caxi e Andreotti con tutto il rispetto per due politici che nel bene e anche parecchio nel male insomma hanno contrassegnato la nostra storia collegandoci a questo la dimensione internazionale della politica è piuttosto assente dal dibattito pubblico italiano e quando non è assente è fondata su luoghi comuni e, la cito, su cose orecchiate chissà dove e chissà quando quali sono le coordinate essenziali del mondo d'oggi da sottolineare secondo lei? siamo di fronte a un cambiamento strategico in questi ultimi dieci anni che si è prodotto a partire dal 2007 la crisi finanziaria del 2007 che è una crisi finanziaria che nasce nel mercato di Wall Street sostanzialmente per un problema di cattiva regolamentazione interna del mercato finanziario degli Stati Uniti e che viene poi esportata a partire dal 2008 sull'intero sistema economico internazionale in parte ci sono delle autostrade, per così dire che connettono in un unico sistema nervoso, economico e soprattutto finanziario il mondo ma poi anche perché le autorità politiche americane hanno cercato di fare quello che noi in Italia chiameremmo le socializzazioni delle perdite quando si guadagna, il guadagno è nostro quando si perde, la perdita è di tutti e in questa hanno replicato quello che avevano già fatto con la bolla delle net economy ai tempi di Clinton quello che era successo in maniera ancora più drammatica chiaramente nel 29 con la crisi di Wall Street che poi produsse appunto una crisi a livello mondiale nel 2007 si verifica una crisi che per la gravità della crisi è paragonabile a quella del 29 e che produce non solo conseguenze economiche ma produce una conseguenza politica centrale che è quella per cui le autorità cinesi che fino a quel momento ritenevano fosse più conveniente per loro stare dentro un sistema a guida americano dal punto di vista economico finanziario e quindi reputavano che gli Stati Uniti avessero le competenze per gestire il sistema e loro dovessero semmai imparare osservare, imparare, capire come funzionava in quel momento decidono che non è più conveniente per loro stare dentro perché sono imbottiti di dollari e di titoli di obiettivo pubblico americano che si deprezzano sostanzialmente e quindi cosa fanno? Decidono che è il momento di prendere, di lavorare per prendere il posto degli Stati Uniti all'interno del sistema e avere la leadership del sistema mettono la freccia mettono la freccia e vanno in direzione del sorpasso alla velocità cinese che non è quella che noi vediamo dei tassi di crescita economici dell'8, oggi del 6,5, 7 ma fino a pochissimo tempo fa del 9, del 10, dell'11% ma è quella di un paese che da 2500 anni si chiama Cina parla cinese scrive cinese mangia cinese ed è nello stesso posto dove la Cina è adesso e mi dica quali altri paesi al mondo hanno una continuità di questo tipo e hanno una dimensione e il tempo è diversa pensi quando Xi è andato a Tavos l'anno scorso a dire noi garantiamo l'apertura dei mercati candidandosi esplicitamente dopo 10 anni dall'inizio di questo processo a dire nel momento in cui gli Stati Uniti appaiono a essere protezionisti o incerti sul tenere un mercato aperto e basta noi ci candidiamo a essere il leader del sistema e Xi dopo Tavos è andato a farsi investire dall'Assemblea Nazionale del Popolo di una presidenza sostanzialmente a vita e nel suo discorso di investitura ha detto datemi 50 anni per cambiare la Cina da così a così 50 anni un tempo che in Europa nessuno leader politico si sognerebbe mai di poter dire senza essere spernacchiato 50 anni sull'esperienza europea o anche degli Stati Uniti che esistono da 300 anni è un discorso 50 anni in una logica cinese che ha proprio un'idea della continuità bimillenaria è un'altra cosa quando dico nel 2017 succede questo cambia l'opportunità significa che cambia proprio il costo beneficio significa che per i cinesi che prima erano non interessati a scalzare gli Stati Uniti adesso da lì in poi ogni occasione è buona per fare che cosa? per ridimensionare il ruolo degli Stati Uniti nel sistema questo è il cambiamento strategico perché è un cambiamento strategico? perché dal 1989 al 2007 nessuno voleva pensava e poteva cogliere un tipo di obiettivo di questo tipo noi complessivamente come Occidente perché l'Europa è un pezzo dell'Occidente l'Europa o è con gli Stati Uniti ma è ancora meno influente e gli Stati Uniti massimamente chiaramente dentro l'Occidente abbiamo fatto abbiamo fatto tanti errori pensi all'invasione dell'Iraq nel 2003 ha prodotto conseguenze importanti per gli iracheni ha prodotto l'espansione di Al Qaeda ha prodotto le premesse della nascita dell'Isis e via discorrendo ma questo errore gigantesco ha per caso causato una ridefinizione al ribasso del ruolo degli Stati Uniti? gli Stati Uniti a seguito di un errore così grande come una guerra fatta contro il nemico sbagliato con obiettivi non conseguiti ha fatto degli Stati Uniti una potenza meno centrale del sistema ha dato spazio a qualcuno? no quando invece nel 2012 Obama segnò la famosa linea rossa che non sarebbe tutta essere varcata da Assad l'uso delle armi chimiche nella guerra civile per una dolorosa punizione da parte degli Stati Uniti per usare le sue parole e nel 2013 al verificarsi dal punto di vista americano esibito come la violazione di quella linea rossa non fece seguire poi la famosa punizione ma si ritirò senza colpire le conseguenze di quella cosa lì nel 2014 furono in termini non strategici la nascita dell'Isis l'ingresso dell'Isis tra Siria e Iraq una minaccia sicuramente importante ma che abbiamo liquidato sostanzialmente usando milizie locali i kurdi come se fosse buttandoli via come al solito e un pochino più di forza aerea di quella che è stata impiegata nel momento in cui si è messo i piedi sull'acceleratore sono spariti ma la conseguenza è stata che nel 2014 la Russia è entrata in Medio Oriente e oggi la Russia è il perno della situazione del Levante e in Medio Oriente in generale con la sua alleanza con gli iraniani e i turchi due attori che nella guerra civile siriana sono sui fronti opposti ma che sono entrambi alleati di Mosca essendo la Turchia un paese membro della NATO by the way che dovrebbe controllare i russi ed essendo la Turchia proponendosi a Turchia come la grande protettrice dei sunniti questo hanno legittimato in qualche modo i russi a fronte dell'incapacità saudita nonostante tutte le cose che hanno fatto in Iraq le cose che hanno fatto in Libano le cose che hanno fatto in Siria di appoggiare la peggio canaglia di terrorismo sunnita che ci fosse in circolazione risultati zero e quindi Turchia è stato detto entrati in questo accordo fate fuori i curdi il problema vostro ma potete presentarvi come la leadership che protegge i sunniti per uno come Erdogan anche se si immagina come il nuovo califo non è così poco e l'Iran ha semplicemente avuto una sinergia più semplice più spiegabile con la Russia legata alla co-alleanza diciamo così al fatto che Assad sia un alleato russo ma sia anche un alleato iraniano perché sottolineo questo punto del 12-13-14 perché il fatto che i cinesi si siano mossi in direzione per sfidare la presenza americana pensi a tutte le questioni relative al gas ai grandi discorsi fatti poi concretamente non ancora realizzati perché poi queste sono infrastrutture che costano un capitale e non si capisce né chi le potrebbe pagare né dove si troverebbe tutto il gas per impiegare i tubi di questo mondo ma se si ricorda quando l'Unione Europea iniziò le sanzioni di fronte della Russia la Russia con grande enfasi strinse un accordo con la Cina per la fornitura di gas alla Cina come sostituto di clienti europei l'organizzazione Shanghai diventò sottolineò di più su aspetti politici militari i russi e i cinesi in questi anni hanno fatto manovre militari congiunte in Mediterraneo nel Baltico e nel Mar Cinese Meridionale per la Russia l'uscita cinese dalla prospettiva di essere al traino degli Stati Uniti dal punto di vista politico sostanzialmente o non sfinante perlomeno ha consentito l'opportunità di uscire perché i russi da più tempo non stavano bene lì dentro per questioni politiche principalmente ma non avevano la massa critica per potersi da soli mettere una posizione di sfida lo sfilarsi della Cina dall'egemonia americana invece consente ai russi di entrare questo è il grande cambiamento strategico sul quale io insisto perché produce fatti anche alcuni fatti estremamente pericolosi abbiamo detto prima che in questo cambiamento strategico la Russia entra nel Levante costruisce una triangolazione estremamente instabile e gli Stati Uniti replicano aumentando ancora di più il loro appoggio incondizionato a Israele e Arabia Saudita nell'area in funzione chiaramente di contendimento di contendimento proprio delle posizioni che gli iraniani principalmente e i russi hanno acquisito nella regione però in questo modo si formano due alleanze instabili una perché i russi i turchi e i iraniani hanno appunto un'alleanza di convenienza ma sono completamente su prospettive diverse ma dall'altra parte instabile è perché gli israeliani americani e sauditi hanno tutti e tre dei problemi di instabilità domestica della leadership Netanyahu è sotto processo sotto inchiesta per tre inchieste di corruzione Trump ogni settimana ci dicono che se non è il Russia che c'è le sue love affairs con altri di porno se non è questo sarà il fatto che non è molto chiaro se aveva pagato le tasse o no quando era un impenditore e ogni giorno ogni giorno ce n'è una e Moabed bin Salman e Moabed bin Salman sta spostando il posizionamento sta cercando di far cambiare il framing della monarchia saudita farlo tornare a essere quello che era negli anni 70 sì un po' rozi un po' ma sono i nostri buoni arabi che non rompono mai le scatole perché sta facendo questo sta facendo questo perché lui ha capito che in questo momento per stare in questo triangolo lui deve porsi come un arabo moderato deve scrollarsi di dosso tutte le schifezze di appoggio che questo è andato a tutti i gruppi terroristici per 30 anni ormai e quindi deve riposizionarsi e quindi fa guidare le donne apre due cinema torna all'antico questa manovra è legata proprio alla rivalità con l'Iran l'Iran adesso nel mirino da parte dell'amministrazione Trump come stato sponsor del terrorismo quindi come gli islamisti estremisti quello che l'opinione pubblica associerebbe alla paura che c'è di fronte ai gruppi islamisti terroristici che sono tutti sunniti tutti anti-shiti tutti anti-iraniani ma il framing l'inquadramento che dà l'amministrazione americana attuale è loro sono gli sponsor del terrorismo quindi Moabed bin Salman deve spostare l'Arabia Saudita da quello che l'opinione pubblica mondiale ha percepito almeno dal 2001 in poi ma in realtà già da prima che erano quasi tutti sauditi quelli del Torre Germania non dimentichiamoci perché Bin Laden era saudita spostare questo posizionamento in questo nuovo inquadramento internazionale noi siamo quelli i tuoi alleati nella guerra al terrore noi che siamo tra gli amici i peggiori terroristi però siamo noi quindi dobbiamo spostarci dobbiamo posizionarci in maniera un pochino meno estremista cosa deve fare per questo? deve internamente tagliare un po' le unghie alla presa del clero Wahabita che è cresciuta negli ultimi 30 anni ora il rapporto tra Saud e Wahabismo è molto più vecchio ma non è un rapporto che è stato sempre come posso dirle in società 50-50 o 70-30 ma è cambiato molto addirittura ai tempi della porta dell'impero ottomano già ci fu un momento in cui il Wahabismo prese la mano ai Saud quando non erano certamente i capi dell'Abbia Saudita almeno clan che si muoveva in una parte della penisola arabica e andarono proprio a distruggere i tempi iracheni sciti a ammazzare sciti a quintalate e i turchi dovettero mandare un esercito per chiudere questa cosa qua i Saud e i Wahabiti hanno sempre avuto questo rapporto di sostegno in cui a volte ti do più spazio e tu mi prendi la mano a volte ti riduco lo spazio allora noi dovremmo chiederci perché vogliono ridurre l'influenza di questi perché finché l'influenza dei Salafides dei Wahabiti è troppo forte nel regno troppo manifesta troppo evidente l'influenza di questo clero così conservatore diventa impossibile riposizionarsi all'interno di una coalizione di arvi moderati quando era avvenuto questo spostamento quando è iniziato avvenire lo spostamento precedente quello che aveva invece dato sempre più peso al wahabismo all'interno dell'ideologia di sostegno di legittimazione del potere dei Saud questo era avvenuto subito dopo la rivoluzione iraniana quando la comparsa di Khomeini e la sua capacità di utilizzare l'Islam come elemento rivoluzionario e di cambiamento dell'ordine sociale invece che l'Islam come elemento di conservazione e di mantenimento dell'ordine sociale era dilagato ben oltre gli ambiti ristretti dello scismo Khomeini era la dimostrazione che l'Islam non è quietista nei confronti del potere politico ma può essere invece anche rivoluzionario cosa che a volte è stata a volte no cosa era successo subito dopo la rivoluzione iraniana a portare questo ragionamento da un ragionamento diciamo così teorico loro minacciano la mia fonte di legittimità perché si abbevono alla stessa fonte mia la stessa acqua che uso per dire bisogna conservare l'ordine sociale loro la usano per ribaltare l'ordine sociale in termini molto pratici l'anno dopo la presa di potere di Khomeini un gruppo di militanti usciti assalta la moschea della pietra nera durante il preghinaggio della Mecca si rinchiude al suo interno le forze di sicurezza udite mettono alcuni giorni per riconquistare la Mecca è un segnale fortissimo per i Saud che il loro potere che si fonda sul fatto che hanno preso loro il controllo della Mecca e di Medina togliendola gli Hussein ancora negli anni venti post Lawrence d'Arabia per così dire è minacciato da questi e quindi devono assolutamente rinforzare il loro lato di noi non siamo gli arabi miscredenti come era Bin Laden da ragazzino che andava a Beirut a bersi gli alcolici a frequentare le ragazze più disponibili andava a Londra a farsi la foto con la Rolls Royce rosa e tutti i suoi amici vestiti da figli dei fiori no noi siamo puritani noi siamo custodi dei luoghi sacri infatti cambiano la titolazione della famiglia dal re dell'Arabia Saudita a custodi dei luoghi sacri della Mecca e di Medina e fanno questo per impedire l'ingresso la competizione ideologica per cercare di eroderla negli anni 70 80 90 il problema è quello e resta quel problema fino a quando il bilanciamento tra la ricerca di risorse interne per rafforzare il regime in termini di legittimazione o la ricerca di alleanze internazionali in termini di sostegno è più sbilanciato sul primo lato è quello l'elemento cruciale questo piano 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 è diventato meno importante perché da un lato loro hanno lavorato in questa direzione sono diventati i campioni di tutto il consolatorismo sportando il salafismo eccetera e dall'altro l'Iran ha aumentato la sua influenza nella regione ma non per una politica volta a ma per semplicemente gli errori degli altri o le conseguenze diciamo così delle guerre che gli altri hanno fatto abbiamo invaso l'Afghanistan per legittivi motivi abbiamo tolto i talebani che erano gli arci nemici degli iraniani finanziati dai pakistani i talebani finanziati dall'Arabia Saudita abbiamo invaso l'Iraq per motivi sbagliati abbiamo tolto Saddam Hussein che era quello che aveva tentato di invadere per quasi 8 anni l'Iran all'inizio degli anni 80 praticamente all'inizio degli anni 70 all'inizio degli anni 80 appena nasce la Repubblica Islamica gli islani hanno cercato di invadere hanno invaso il Libano nel 2006 massacrando facendo scempio di tutto quello che trovavano questo ha dato spazio all'Esbolla che era nell'angolo nel 2006 politicamente c'erano stati gli omicidi di Ariri c'era un governo molto filo occidentale in Libano Esbolla era stato immarginato l'invasione del 2006 con la resistenza di Esbolla riporta Esbolla al centro del sistema politico libanese e riallinea al Libano all'Ira progressivamente vediamo quando Esbolla ha fatto eleggere a un cristiano malunito come da Costituzione presidente della Repubblica e adesso che Esbolla ha sostanzialmente vinto le elezioni quindi c'è questo riallineamento tutta questa crescita di potere fa sì che in questi anni ormai per l'Arabia Saudita il problema non sia più la minaccia di non essere percepito come abbastanza puritano un religioso un vero fedele dell'Isla ma il problema della monarchia saudita sia gli allenamenti internazionali perché si sta creando una configurazione che sta mettendo l'Iran nel mirino perché l'Iran è cresciuto troppo e in quest'ottica si spiegano sia le buffonate di Netanyahu sulle violazioni inesistenti dell'accordo internazionale sul nucleare sia il fatto che gli americani due giorni dopo praticamente si sono ritirati anche loro seguendo prescrizioni diciamo così israeliani questi sono gli effetti strategici e sono effetti prodotti da quel 2007 sono effetti pericolosissimi i russi nel frattempo hanno anche invaso la Crimea nel 2015 allora quello che voglio dire e ritorno appunto a chiudere la sua domanda se vogliamo capire cosa è cambiato cosa bisogna capire oggi vogliamo capire innanzitutto che è cambiato il quadro strategico che la politica delle grandi potenze divergono e non convergono più non sono più allineate rispetto a un modello di ordine politico ma stanno proponendo politiche che portano a non poter più tenere insieme questo ordine questo significa che noi non possiamo più contare sulla stessa negligente indulgenza del mondo rispetto agli errori che compiamo perché questa volta se facciamo un errore non saranno gli insorgenti i talebani o chi altro che dovremmo misurarci ma dovremmo misurarci con cinese e russi che sono in grado di sfruttare la vittoria degli errori che fai quando i romani persero nel 9 d.C tre legioni in Germania ad opera di Arminio nella strada di Teutoburgo fu una grande sconfitta militare che non produsse conseguenze sulla centralità di Roma nel Mediterraneo nel suo sistema internazionale di allora i germani non avevano le spalle abbastanza grandi per trasformare un'importante vittoria tattica in un successo strategico certo la Germania non fu romanizzata né più né meno di quanto l'Afghanistan sarà occidentalizzato o democratizzato oggi e con tutto rispetto per i germani e gli afghani e chi se ne frega l'ultima analisi ma quando i romani 300 anni prima competevano con Cartagine e lì chi perdeva la sfida scompariva Cartagine perse con Roma Cartagine scomparve un mondo punico un Mediterraneo punico venne sostituito da un mondo Mediterraneo romano e poi da un mondo romano ecco quello che è cambiato che dobbiamo capire che per poter intendere questa trasformazione necessariamente dobbiamo tenere presente gli elementi politici gli elementi economici gli elementi domestici gli elementi internazionali arriva qui il tema del naufragio che fa parte del titolo del suo libro si parla di naufragio dell'ordine liberale qual è l'essenza di questo mondo che ci deve far preoccupare per una sua scomparsa intanto che questo mondo è il nostro cioè quello che dicevo prima noi europei noi occidentali siamo l'equipaggio e gli ospiti passeggeri del Titanic perché il mondo così come è stato costruito da partire dal secondo dopoguerra è stato costruito intorno ai valori dell'economia di mercato intesa come strumento di aumento dell'interdipendenza economica ritenuta la via attraverso la quale si sarebbero prodotte diminute le probabilità del conflitto completamente all'interno di un'ottica liberale ma liberale alla John Stormy alla Riccardo alla Dan Smith proprio l'idea che l'aumento alla Kant se vuole l'aumento dei commerci dei negozi internazionali avrebbe portato le persone a avere più interesse in comune e meno interesse contrapposti quindi a ridurre la possibilità di una guerra nel sistema internazionale questa è l'ambizione del liberalismo politico internazionale l'idea che questo fosse uno strumento però era radicata e uno strumento non perfetto era radicata nell'esperienza di chi quell'ordine nel 1941 quando inizia ad essere disegnato e poi implementato negli anni sul dopo la guerra lo realizza e l'esperienza di queste persone l'esperienza intellettuale l'esperienza di vita l'esperienza politica era la crisi del 29 e il new deal consapevolezza che i mercati non si autoregolano e devono essere regolamentati perché altrimenti nel mercato quelli più grossi crescono sempre di più e fanno fuori quelli più piccoli cioè il mercato ha una tendenza ad oligopolizzarsi e gli oligopoli tentano di appropriarsi delle istituzioni politiche per avere la protezione della legge nei confronti della situazione che cercano di creare perché sono cattivi no come il campionato di calcio le squadre giocano per vincere non è che giocano per la bellezza del gioco e infatti c'è un arbitro che deve applicare le regole allora questa convinzione ha portato all'idea che se costruiamo un mercato internazionale come strumento di pace beh deve essere molto ben regolato questo mercato perché deve avere deve incontrare a livello internazionale qualcosa che assolva il più possibile le medesime funzioni che lo Stato assolve all'interno della dimensione economica domestica New Deal ripresa economica per uscire dalla crisi grande mercato per uscire dalla crisi della seconda guerra mondiale quindi istituzioni che lo regolano noi stiamo vissuti e stiamo ancora vivendo in un mondo che è pieno di istituzioni mai stati così antistituzioni come dal secondo dopo guerra queste istituzioni e questa concezione ha consentito che il mercato e la democrazia politica potessero rinvigorire e stringere la nuova alleanza che si era molto indebolita in realtà nel corso dell'Ottocento era nata originariamente a tempi della rivoluzione francese contro le oligarchie del vecchio regime nemiche delle idee della libertà dei filosofi ma anche nemiche della libertà di movimento dei borghesi che volevano costruire il mercato ma si era indebolita nell'Ottocento e perché si era indebolita? perché quando fai il mercato chi diventa più forte cerca di oligopolizzare e di proteggere la sua area questo è il vascello con il vascello inizia a essere dirottato tra gli anni 70 con il pensiero conservatore con un'altra equip diciamo così che prende la leadership intellettuale e politica nel sistema in occidente e che a sua volta alle spalle la capacità di aver fatto uscire il sistema economico dalla crisi degli anni 70 la stagflazione attraverso la ricetta di meno governo meno regole meno ingerenza dello Stato nell'economia quindi quando poi paradossalmente stiamo per costruire finalmente un mercato mondiale chi è al governo e chi ha il potere intellettuale diciamo così ha in mente un altro avversario ha combattuto con successo anche lui un altro avversario come tutti fanno per chi non capisce che è cambiato il quadro strategico applica le stesse cose e inizia l'indebolimento della democrazia e del sistema liberale in termini di rapporti di potere anche una cosa osservata la crisi degli anni 70 è prodotta principalmente dal punto di vista dall'innalzamento del prezzo del petrolio e soprattutto dal fatto che il controllo sulle quantità prodotte passa dalla domanda all'offerta la conseguenza della guerra del Kipur l'OPEC e via di scorda come reagisce la classe dirigente o se vuole quelli che hanno le posizioni di potere all'interno delle democrazia occidentali potere anche economico la borghesia l'alta borghesia le elite la classe dirigente mettiamoci il termine che volete scaricando i CET intermedi perché quando la risposta è c'è la crisi fiscale non possiamo sostenere queste spese dobbiamo ridurre le spese fare meno investimenti bisogna dare meno servizi pubblici perché la gente si deve procurare sul mercato quello che gli serve chi è che verrà danneggiato da questa cosa qua vengono danneggiati i CETI che più usufruiscono dei servizi pubblici che hanno usufruito del welfare state che è stato lo strumento con il quale sono stati inclusi nel sistema dopo la seconda guerra mondiale quindi c'è anche un cambiamento di potere che già lì inizia per questo che io parlo di un dirottamento in quegli anni c'è un 89 che è data come data simbolo che ci porta poi alle conseguenze del 2007 a un mercato fuori controllo a una nave che va a una velocità folle su una rotta sbagliata e va a picchiare contro un iceberg ecco perché io ho una simpatia per l'ordine liberale che declina che non è quello che stiamo vedendo tanto è che io sostengo che accanto alle minacce esterne che sono causate da questa follia questa folle velocità questa direzione sbagliata questo sistema che non si pone il problema di regolamentare le cose c'è una minaccia interna più sottile più pericolosa per questo che la minaccia è costituita da come è cambiato il sistema tra il 1989 e il 2007 non è più un sistema liberale è un sistema neoliberale non è più un sistema che è capace di regolamentare il mercato nell'interesse stesso del mercato ma è un sistema che accetta la formazione di oligopolio al suo interno li benedice e li protegge perché le leggi per la concorrenza la regolamentazione per la concorrenza in realtà fa pochissimo per smontare i grandi oligopoli hanno smontato Microsoft hanno smontato un altro paio di grandi conurbazioni di capitale ma non stiamo mica scherzando pensando che c'è una politica anti-oligopolistica negli Stati Uniti o che la Commissione Europea ha davvero una politica anti-oligopolistica ecco perché noi dobbiamo tornare a una visione liberale che in termini appunto internazionali si chiama ordine liberale in termini di politica domestica è il grande compromesso social-democratico che è quello che nasce nel 1941 tra Churchill e Roosevelt sostanzialmente il mercato regolato dalla democrazia politica la democrazia politica resa possibile nella necessaria produzione di misure che favoriscano il fatto che la disuguaglianza economica e sociale non si mangi l'uguaglianza politica e quindi l'economia di mercato che funziona per poter consentire di avere risorse a sufficienza da mantenere anche questo enorme sistema di inclusione questo è l'equilibrio non ci sono buoni o cattivi ma quell'equilibrio è quello che ha prodotto la crescita del ceto medio la possibilità della democrazia come non teoria ma concretezza ed è quello che ha fatto sì che il mondo del capitalismo l'economia di mercato le società occidentali della fine del novecento fossero così diverse da quelle descritte da Marx ha reso il capitalismo popolare popolare non solo oggetto di plauso ma popolare perché il popolo poteva accedere allo strumento del capitalismo e dell'economia di mercato per migliorare le sue condizioni e noi che siamo in paesi di microimprenditori in cui chi ha messo su la fabbrichetta come diceva Milano è spesso un ex operaio che si è messo in proprio e che dal punto di vista sociale è indistinguibile dai suoi dipendenti è la dimostrazione di quello di cui stiamo parlando è quel capitalismo lì è quel mercato lì che le persone ancora approvano ma quelli che ci vendono oggi che il mercato deve essere lasciato libero non sono questi questo è il mercato dei banchieri dei grandissimi gruppi di quelli che sono che hanno trasformato posizioni di leadership economica in posizioni di protezione politica gli amici che scalano telefoni autostrade ferrovie qua e altrove gli amici che in Inghilterra forniscono servizi sociali al posto dei comuni e al posto delle municipalizzate come si sarebbe detto e che una volta che li offono non sono più sostituibili perché se li devi cacciare un pezzo del paese resta senza acqua o senza gas quindi qualunque cosa fa e che hanno sfruttato le loro opposizioni per diventare protetti politicamente quando questi parlano del mercato parlano del mercato dei grandi capitalisti dei boffet quando noi parliamo del mercato parliamo del mercato di concorrenza dei piccoli imprenditori ed ecco il grande bisticcio il grande inganno per così dire che ci dicono guardate come il mercato mantiene la libertà ma il mercato perché come si sta dicopolizzando sta svuotando le libertà compresa quella di interpresa perché che scienza ha un piccolo imprenditore di muoversi nei confronti di un grande imprenditore e non c'è nessuno destino necessario su questo perché la globalizzazione è stata fatta con le leggi e le leggi sono state fatte da parlamenti nazionali il problema è che le leggi dagli anni 80 in poi hanno iniziato a tutelare i più forti e non a proteggere i più piccoli e questo ha delegittimato anche la funzione stessa dello Stato l'idea stessa in qualche modo dello Stato della politica del pubblico che si diventa chiaramente una democrazia un sistema in cui i più forti si vedono riconosciuti i loro diritti i più deboli alzarsi e pedalare è ovvio che poi le conseguenze sono quelle che conosciamo il populismo da una parte la tecnocrazia che vede il popolo come una cosa che va abbastonato che va compatito quantomeno per quanto è ignorante manco fa se mai è stato colto il popolo voglio dire questo produce chiaramente la spaccatura tra il sistema nel sistema e l'indebolimento complessivo dei sistemi liberali che torneranno a essere poco attrattivi attenzione per me è il destino che ci aspetta se non cambiamo la rotta la nave non è ancora affondata possiamo riallontanarci non tornando su una vecchia rotta ma essendo consapevoli che la prima cosa per muoversi da una rotta a un'altra è capire che stai andando contro un iceberg dopodiché vedrai quali nuovi equilibri con la nave che ha subito nel frattempo dei danni dei cambiamenti potrai tenere per mantenere la nuova rotta ma non si può dire che siccome stai finendo contro un iceberg non c'è niente da fare oppure va tutto bene così perché quelli della prima classe tanto vanno le scioluppe per salvarsi e gli altri chi se ne frega il mondo è fatto di seconda e terza classe non è fatto di prima classe la prima classe del mondo oggi è il 1% il 99% conta sempre di meno e se noi amiamo il sistema dell'economia di mercato correttamente intesa come un sistema che esalta la capacità di intraprendere ma la amiamo anche perché sia corretta perché si debba non lei che non è il suo compito ma la politica preoccupare di tutti gli sconfitti della competizione che devono essere presi cuditi rimessi in condizione di competere di fatti competere perché la società è fatta di persone mediocre e meno che mediocre nella sua massa come è giusto che sia e non di geni fossero anche 100 premi Nobel nella nostra società il 5% migliore fa sì che il 95% peggiore di premi Nobel non siano i migliori li buttiamo via le persone esistono in quanto tali questa è la cosa che non dobbiamo mai dimenticare prendersi cura della società significa che un economico di mercato per sopravvivere ha bisogno innanzitutto che sopravviva la società in cui lei sta altrimenti muore proprio amando la libertà la democrazia gli individui rispettando gli altri che è l'unico modo che abbiamo per rispettare noi stessi alla fine noi dovremmo essere preoccupati che oggi se guardiamo la distribuzione del reddito della proprietà come funziona il capitalismo oggi il mondo in cui viviamo sia molto più simile a quello descritto da Marx negli anni 30 o da Engels negli anni 30 dell'ottocento che non al mondo che era la seconda parte del novecento questo è preoccupantissimo perché sai da cosa lo vedi ma i working poor come si chiama ma la gente che vede i lavoretti con due o tre lavoretti mette insieme a stento la cifra per sopravvivere il fatto che ci sia gente che lavorando è povera non è mica la stessa cosa che rischiava Engels quando parlava dei lavoratori del Tess e dei Manchester operai miserabili gente che lavorava 10-12 ore al giorno ed erano peggio della corte dei miracoli che è scritta da Vittorio Go nei miserabili questo è grave quando per noi il secolo il secolo americano per così dire è stato quello in cui i poveri sono diventati piccolo borghesi medio borghesi classe media che ha significato semplicemente che hanno potuto iniziare ad avere consumi speranze libertà di scelta destini individuali e questo è il paradosso che un'economia di mercato che esalta l'individualismo priva così tanti milioni centinaia di milioni di individui della loro individualità di potersi realizzare per quello che sentono e sperano e sognano di far tornare nelle condizioni dei servi dell'anglieva questo è inaccettabile da un punto di vista liberale mentre ascoltavo mi è venuta in mente una figura paradigmatica di questo momento capace di combinare un'adesione pressoché totale al sistema neoliberista con toni nazionalistici e politiche protezionistiche cosa rappresenta Trump in questo mondo dirottato il riallineamento? cosa sta facendo Trump? quando inserisce alcuni dazi nei minacciati poi contemporaneamente tratta con la Cina per mettere in salvo la sua compagnia di elettronica negli Stati Uniti quindi bastone e carota per così dire quando tratta gli alleati come pezzi da piedi ma contemporaneamente alcuni li esalta Trump sta facendo una cosa in realtà da un lato deve rispondere a un elettorato interno che è fatto di persone che sono state colpite dalla globalizzazione e non avvantaggiate in qualche modo Trump non è coerente con l'ordine liberale ma neanche con l'ordine neoliberale ed è stato eletto da questi è stato eletto da quelli la fascia della ruggine è stato eletto dagli operai bianchi americani che erano senza lavoro è stato eletto da questi perché la sua antagonista diceva va tutto bene è solo la crisi economica se lei sta male va da uno e uno le dice non hai niente alza di cammina e non rompe le scato e l'altro le dice in effetti stai male ti correrò con gli impacchi di fango certo gli impacchi di fango una persona normale dice boh ma la terapia è un attimo poco efficace probabilmente ma almeno mi ascolta ci crede che sono malato quello dice che sto bene quindi in questo senso lui ha proposto e sta revisionando fanno posta di revisione quali sono i limiti di Trump che da un lato la fa ma nel nome di valori che non sono il ritorno al liberalismo la cosa più preoccupante di Trump è che lui ha rimesso in circolazione o anzi per la prima volta ha messo in circolazione davvero dalla fine degli anni dagli anni 60 quindi da quando la corte suprema degli Stati Uniti innanzitutto e poi la presidenza Johnson lavorò per l'uscita dell'America degli Stati del Sud degli Stati Uniti da segregazionismo cento anni dopo alla fine di quella secessione lui sta riabilitando politicamente tutto quello che è il suprematismo bianco tutta la cultura razzista negli Stati Uniti dal punto di vista della quella che noi chiameremmo l'agibilità politica ecco in tutti questi 50 anni le idee dei Ku Klux Klan dei nazisti dell'Illinois per dirne con John Belushi del suprematismo bianco erano tollerate con lo stesso nel nome dello stesso principio per cui si tollera la pornografia negli Stati Uniti cioè il primo emendamento la libertà di opinione e quindi quella è una forma estrema di libertà di opinione così finché non commette atti di violenza non posso dire niente Trump invece ha recuperato questi valori di fatto li ha integrati ha dato agibilità politica all'interno della cultura politica americana dominante a questi valori ha trasformato il partito repubblicano in un partito molto più in mano culturalmente agli estremisti questo è il pastigio che sta combinando ed è quella fusione che ridice tra nazionalismo da una parte interessi economici dall'altra ed è la stessa cosa che sta facendo Orban in una maniera diversa su cose diverse ma non così tanto in Ungheria che fanno in Cecchia che fanno in Slovacchia che fanno in Polonia su norme religiose che riguardano la procreazione e via discorrendo e questo succede in parte anche da noi anche se in maniera molto confusa allora il punto è proprio questo c'è la saldatura tra la contestazione la rilevazione dei problemi legati a questa deriva del sistema con una cultura nazionalista che è un altro modo di scaricare sull'esterno il problema cioè Trump sta scaricando sull'esterno la crisi del sistema americano non diversamente da come la faceva Bush l'ha fatto Clinton l'ha fatto anche Obama in parte di fronte alle crisi economiche che si presentavano e questo è un grosso problema chiaramente in termini più generali di cosa sta combinando c'è sempre l'attenzione dell'egemone la tentazione dell'egemone realizzare gli interessi di coalizione che legittimano sempre di più il fatto che io sia il leader di questa coalizione o realizzare gli interessi nazionali miei in misura ancora maggiore proprio perché sono l'egemone quindi nessuno mi contrasta sempre chi è in leadership tende a fare a oscillare tra questo punto e quest'altro punto però Trump sembra aver scelto in maniera diretta gli interessi degli Stati Uniti e lo vede appunto in tutte le scelte che sta compilendo quanto questo mina a lungo termine l'autorità degli Stati Uniti paradosso è che se quello scambio con l'inizio di soppasso di sostituzione tra Cina e i suoi alleati e Stati Uniti si sta compiendo quello che sta facendo Trump potrebbe accelerare questo processo perché non capisce che l'elemento di forza degli Stati Uniti rispetto a Cina e Russia è la stabilità delle alleanze che possono essere alimentate solo dalla capacità di curare almeno ogni tanto anche gli interessi della coalizione non solo gli interessi propri i russi e i cinesi sono molto più deboli in termini di stabilità delle alleanze è quello il loro punto di differenza grande rispetto all'America se l'America rinuncia a giocare sul campo lì va a giocare sul campo degli altri perde un vantaggio incredibile danneggia se stessa e purtroppo danneggia anche noi quello che colpisce molto di questa descrizione di Trump è che comunque persegue degli interessi intricati non facilmente leggibili ma c'è una direzione anche lì non approvabile approvabile ma una direzione l'assente in questa storia è l'Europa l'Europa ad oggi in questo schema dov'è ma ancora di più dove dovrebbe essere secondo lei negli anni a seguire dov'è l'Europa l'Europa in questo momento è in uno stato di gigantesca confusione questa è la verità in uno stato di gigantesca confusione che è legato da un lato al fatto che il processo di integrazione europea si è interrotto di fatto con il voto francese sulla Costituzione europea che è una cosa che nessuno ricorda più quello ha prodotto il compromesso al ribasso il Trattato di Lisbona e il Trattato di Lisbona ha dato spazio ai governi nazionali e ha magnificato l'opposizione spinta comunitaria e spinta dei governi nazionali i governi nazionali prima non avevano il potere costituzionalizzato che hanno dopo Lisbona però questo è stato completamente obliterato e questo è un elemento di oggettivo pasticcio istituzionale che ha prodotto la crescita dei governi quindi la spinta agli egoismi nazionali e quindi ha messo ancora più in difficoltà l'Unione Europea come comunità l'Unione poi aveva un altro problema si doveva occupare sostanzialmente di creare un mercato unico europeo e della concorrenza e gli Stati devono occuparsi diciamo così del welfare dei siti sociali che sono le cose che danno legittimazione politica di fatto soprattutto secondo dopo guerra cosa è successo? l'Unione sul lavoro l'ha fatto a forza di costruire un mercato sempre più mobile per capitale e lavoro sempre più libero ha prodotto la crescita di soggetti importanti che hanno ottenuto legittimazioni sempre favorevoli a loro e gli Stati che pensavano di presidiare la cassaforte del consenso politico non si sono accorti che però la costruzione di quella roba lì andava a mangiare la cassaforte finanziaria su cui loro potevano basare il consenso costruire il consenso e abbiamo avuto questa opposizione più che adesso ma c'è una deriva in cui c'è l'austerità come che te lo guida nel sistema dell'Unione Europea e nessuno che si appende più cuore appunto della solidarietà che non è un principio di cui ma appunto nel lungo periodo serve alimentare il mercato la crescita degli stati ha sancito sempre la maggior difficoltà di tenere sotto controllo gli stati più forti all'interno dell'Unione tra cui la Germania la Germania la Germania ha una situazione consolidata in cui attraverso una moneta che è più debole del marco può esportare tutto quello che poi sempre più solo lei produce attraverso i vincoli di austerità che dà alle altre economie più deboli l'euro fino adesso ha costituito uno strumento di enorme vantaggio per la Germania nel consentire alla sua economia di esportare sempre di più uno dei problemi grossi dell'Europa che noi stiamo in un sistema che alla fine è basato su uno bilancio strutturale delle esportazioni tedesche rispetto a tutti gli altri la Germania fa in Europa crea in Europa la turbolenza che la Cina crea nel sistema internazionale non può avere un paese che esporta sistematicamente 5, 6, 7% del suo PIL come margine tra esportazioni e importazioni a suo favore e tutti gli altri importano perché è evidente che in questo modo uno si arricchisce sempre di più e gli altri si impoveriscono sempre di più tutto questo può essere messo in inversione solo a condizione che all'interno dei singoli sistemi politici europei si affermino conoscenze competenze inquadramenti dei problemi che mettono in luce certi aspetti e non vengano usati come una clava nei confronti di tizio di caio per spuntare qualche piccolo vantaggio ma vengono messi in circolazione per ricominciare a riflettere l'importanza secondo me in questa fase delle idee è rialimentare un dibattito che è estremamente povero che è estremamente a senso unico in cui nessuno mette in dubbio pregiudizi sostanzialmente neanche quando questi pregiudizi sono svillaneggiati dai fatti che la Grecia sia stata rovinata ancora di più dalle misure di osterità ma è evidente sotto gli occhi di tutti che i greci fossero in quelle condizioni non perché fossero pigri ma perché al di là della cattiva amministrazione potrebbero avere l'Europa ma non puoi spiegare il fallimento di un paese con l'attitudine individuale ma che è proprio la metodologia delle scienze sociali l'idiozia che non sta nascendo in terra eppure sono andati a fare questo è lì che bisogna iniziare a ribaltare le convinzioni dominanti e a diventare un dibattito di idee che possono essere come in tutti i dibattiti anche seriamente contestate ma che ci offrono la possibilità di raffinare le nostre ipotesi non per compincere un'idea conturata perché il raffinamento delle ipotesi il costruire ipotesi di interpretazione della realtà migliori serve a poter capire meglio la realtà il dibattito non serve a convincere A delle idee di B o B delle idee di A ma far sì che la proposta di A o la proposta di B sia più intelligente e meglio articolata perché cogliendo i punti deboli della sua medesima proposta attraverso la discussione la può migliorare e quindi può fare una proposta che descrive la migliora realtà questo è il punto fondamentale tutto questo noi ce lo siamo persi se noi pensiamo alla pochezza delle classi dirigenti in questo momento è legata al fatto che non alimentano il loro pensiero che di quelle quattro cose che leggono sui giornali che sono assolutamente delle stupidità banalità 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 perché sono espresse perché i giornali sono possibilità chi investe nei giornali chi possiede i giornali e quali sono gli interessi che sono in gioco ed è chiaro che gli interessi più concentrati questa è la bici della politica hanno più probabilità di essere rappresentati di essere quindi avere misura a loro favore degli interessi diffusi questo non c'è dubbio pensi al nostro interesse comune di avere un pianeta che sopravviva a noi più diffuso di così ed è così difficile farlo implementare no? perché? perché chi ha interesse a dire ma sì fa niente se impieguiamo un po' cosa vuoi che sia ha moltissimi soldi da spendere su questo chi invece ha interesse è molto diffuso però il paradosso qual è? il paradosso è che in un sistema democratico questa possibilità di avanzamento esiste di più Trump ha un'idea sul riscaldamento ambientale tutta sua per usare un neofemismo si è ritirato da Parigi ha detto che a lui se ne frega farà questo farà quello ma 17 governatori degli Stati Uniti hanno già detto che loro fanno altre cose in pericolo ambientale vorrei consigliere che questi hanno detto faremo questo anche se questo creerà per esempio problemi sull'industria automobilistica americana perché avremo regolazioni diverse lo faremo lo stesso e Trump quando ha detto ma voi non potete gli hanno detto guarda ti spiego questo è un sistema federale c'è un sistema di competenze dello Stato centrale degli Stati federali è un sistema democratico c'è la divisione dei poteri e quindi tu non puoi decidere tutto e se c'è un conflitto di attribuzioni ci sarà la Corte Suprema a stabilire chi fa che cosa lei pensi la Cina che tutti dicono bravi cinesi che hanno approvato le cose sul clima Xi ha detto così ma se Xi cambia idea che possibilità c'è di fare tornare la Cina su una posizione più saggia zero ecco qual è il vantaggio delle democrazie non che producono decisioni migliori sempre ma che il principio in base al quale decidono consente di cambiare idea di far vincere le coalizioni di interessi diversi e quindi di sopravvivere errori possiamo sopravvivere a Trump sì ragionevolmente se non fa scoppiare una guerra prima possiamo sopravvivere a Orban possiamo sopravvivere a Di Maio Salvini oppure per chi la pensa diversamente a Renzi Berlusconi sì senza dubbio se in un qualunque sistema meno democratico un errore di quel tipo ti condanna a seguire tutti gli errori che quello che tu hai appoggiato per andare al potere potrà compiere da lì all'eternità queste un pochino le cose dimentichiamo quindi tornando all'Europa l'Europa deve sapere recuperare le sue dimensioni e questo va fatto a partire dagli stati le sovranità esistono non muoiono chi dice che il sovranismo è sbagliato è vero ma il sovranismo cosa diavolo è è la versione un pochino populista della sovranità beh è giusto è una cosa un po' così un po' volgarotta bene ma il punto è senza sovranità non ci sarebbe democrazia quindi non può essere l'abolizione della sovranità la risposta perché la democrazia ha bisogno di sovranità e ha bisogno degli stati per funzionare l'Unione Europea deve tornare a fare quello che ha saputo fare per un periodo armonizzare la sua erigenda sovranità di secondo livello con le persistenti sovranità di primo livello degli stati trovare il modo di fare convergere gli interessi come mediazione mediazione e ancora mediazione non mi può sfuggire che abbiamo perso questa capacità a mano a mano che all'interno dell'Unione alcuni stati diventavano più forti l'Unione Europea è in maggior crisi da quando la Germania dopo l'unificazione dopo la fine della guerra fredda è diventato il leader incontrastato questo è il punto la strategia per cercare di gestire questo problema fu ai suoi tempi quella dell'allargamento e dell'approfondimento l'allargamento è riuscito ma l'approfondimento no ed si è cercato di farci credere che l'euro fosse un modo con cui avremmo tenuto a base tedeschi togliendogli il marco e non abbiamo capito che la moneta è uno strumento e basta se non si provvedeva a regolamentare diversamente i trattati dell'Unione è cosa che non si è stati capaci di fare inevitabilmente il più forte avrebbe sfruttato il terreno comune per diventare sempre più forte ovvio perché come per il mercato l'attore più forte cerca di diventare oligopolista e di trasformare la sua posizione in una posizione regolata per legge il libro ha sicuramente tante imperfezioni sicuramente e sicuramente gli specialisti di ogni singolo settore potrebbero dire ma qui secondo me avrei scritto così avrei scritto così ma se sono riuscito in questa lettera di chiacchierata a farmi capire quello che serve invece è proprio una sintesi il tentativo di offrire a chi legge e a chi ci ascolta un quadro sintetico di cosa è successo in questi ultimi 30 anni perché se capisci questo puoi cercare di capire cosa potrebbe succedere e cosa tu potresti fare se vuoi un esito diverso da quello che è stato ottenuto ci sono tantissime cose da tenere insieme ma io credo che oggi le scienze sociali la scienza politica ma anche l'economia abbiano bisogno di produrre sintesi di interpretazione che consentono alle persone di rivolgersi agli esperti cosiddetti per avere un aiuto nel capire e non rivolgersi ai ciarlatani ecco perché io credo molto nel cercare di muoversi fuori da ristretti recinti disciplinari e in un discorso che sia nutrito delle conoscenze analitiche migliori che ognuno di noi ha raffinato nei limiti della capacità di ognuno di noi di fare considerazioni intelligenti ma che sia anche offerto a un lettore in maniera tale che un lettore di media cultura e con poco o nessuna conoscenza tecnica dei singoli aspetti possa capire e non necessariamente comprare le tesi di chi parla ma prendere quelle tesi smontarle in tanti mattoncini di Lego e fare la sua torre la sua cosa possibilmente non uguale a quella rappresentata nella confezione della scatola di Lego io penso che noi dobbiamo tornare a una utilità sociale delle scienze che non vuol dire farci condizionare in quello che cerchiamo da ma sapere che alla fine tutto il nostro sapere deve essere rivolto alla sua utilizzabilità altrimenti è completamente inutile il libro ha al centro il tema del naufragio tra le sue pagine tuttavia non si respira o almeno io non ho respirato mai il senso della paura come mai intanto non ringrazio di questo perché lo scopero esattamente questo perché io penso che nel libro lascio aperta la speranza ricordo sempre che poi alla fine nulla è scritto nulla è scritto che gli strumenti che possediamo sono comunque strumenti estremamente rozzi ma questo lascia a noi un'enorme possibilità di movimento io credo estremamente nel fatto che mentre sia completamente futile e sbagliato addossare alla somma dei caratteri individuali la ragione dei fallimenti stiamo invece nella possibilità di ognuno di noi quella tessera di poter cambiare le cose nella direzione che desideriamo e dobbiamo riprendere consapevolezza di questo e muoverci illuminati diciamo così da quelle poche cose che sappiamo sono le stelle che guidano la navigazione le stelle quando Vasco da Gama quando Colombo Masellano fecero le loro grandi esplorazioni navali visto che di navi stiamo parlando non avevano nessun strumento in pratica una bussola che era una roba che aveva degli scarti dal grado magnetico al grado geografico dal polo magnetico al polo geografico abominevoli non avevano in sé stante quindi non sapevano fare il punto nave non sapevano dove fossero sostanzialmente sbagliavano di decine di miglia nautiche non avevano carte geografiche carte nautiche meno che meno Portolai dove stavano andando ma andarono erano mossi spinti dalla consapevolezza che era la loro vita volevano giocarsi alla loro vita ma che alternative abbiamo possiamo farci dare un'altra vita in cambio possiamo vivere questa vita senza speranza e poi vivendo un'altra con più speranza non c'è niente che sia da più della speranza quando sei disperato la speranza si si utilizza nella disperazione allora io penso che credo molto che appunto la prima cosa da fare per cambiare le cose è vedere che le cose vedere le cose in maniera diversa e credo che ognuno nel suo possa fare molto io faccio questo mestiere quindi penso che posso fare molto di più cercando di fornire delle chiavi di interpretazione che non candidandomi al Parlamento o facendo un'assemblea o dando una lotta armata che ne so io qualunque cosa possa dirvi in mente e credo che però molto dipenda poi appunto da quello che noi ognuno singolo di noi può fare perché vi dico una cosa noi non sappiamo non sappiamo cosa non sappiamo punto fondamentale della scienza è che non sai che cosa non sai alcune cose non sai neanche di non saperle e quindi sei pronto a aprire la mente e a cogliere la realtà quando la realtà ti viene incontro e ti chiede interpretazione dal punto di vista politico questo significa banalmente noi non sappiamo se quello che noi possiamo fare oggi poco o tanto che sia è il 5% in un sistema di cambiamento o il 90% in un sistema di cambiamento noi non lo sappiamo non sappiamo questo né più nemmeno del fatto che Tarquinio Prisco sapesse se era l'ultimo degli etruschi o il primo dei romani non lo sapeva non era rilevante per lui allora ecco perché noi siamo però responsabili di tutto quello che possiamo fare che poi gli storici di futuro ci verranno a dire fecero tutto quello che potevano fare ma fallirono o avrebbero potuto fare in realtà molto poco e non lo fecero cosa vorreste aver scritto voi sulla vostra epigrafe il giorno che non saremo più qua lottarono fino allo strenuo e fallirono o erano degli gnavi e si estinsero per questo uno dei più bei discorsi di Churchill pronunciati proprio in occasione dell'assunzione della carica del primo ministro quando sostanzialmente gli inglesi hanno come un unico successo la ritirata di Dunkirk è il discorso in cui dice parlando della difesa dell'Inghilterra e dei suoi valori rispetto alla marea nazista dice sostanzialmente è un momento difficile non vi posso promettere altro che sangue sudore e lacrime ma voglio che gli storici del futuro guardando noi possano dire quella fu la loro ora più bella che non era legata al successo ma credevano in quei valori e perché credevano in quei valori lottarono in maniera esemplare e illustrarono quei valori e furono se stessi perché capirono che loro potevano essere quello o null'altro sta a noi decidere se questa se questa era che stiamo vivendo sarà la nostra ora più bella di noi che chiediamo nella libertà nella democrazia in un mercato produttore di ricchezza proprio perché anche regolato oppure sarà la nostra ora più vergognosa perché siamo stati degli ignavi che hanno meritato a un certo punto di scomparire con i loro bei discorsi mi sembra un punto eccellente per chiudere grazie grazie a voi 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 grazie a voi